Chiediamo un nuovo modello di gestione che garantisca i servizi e quanto dichiarato ai nostri microfoni dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola che ritorna sulla questione che sta interessando il piano di zona S8. Secondo il primo cittadino agropolese occorre non più l'aggregazione tra enti con un comune capofila che deve farsi carico di tutto ma una struttura nuova e all'avanguardia che è la costituzione di un'azienda speciale e consortile. L'incontro dell'ultimo coordinamento per me è stato deludente nel senso che le risposte che ci aspettavamo non sono arrivate. Quello che noi chiediamo è che il piano di zona funzioni, non ci interessa chi è il comune capofila, non ci interessa il poltrone, ci interessa che il meccanismo delle politiche social funzioni e noi proponiamo un nuovo modello di gestione, non più l'aggregazione tra enti con un comune capofila che deve farsi carico di tutto ma una struttura nuova, all'avanguardia con i tempi che tutti gli altri piani di zona stanno facendo e che ha un input da parte della regione che vuole questo tipo di strutture, che è la costituzione di un'azienda speciale e consortile, che sia una struttura all'avanguardia e che possa far funzionare bene il piano stesso. Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo un nuovo modello di gestione, non altro. Rispetto alla novità però molto spesso c'è preoccupazione e io dico ai sindaci però, la preoccupazione deve essere prima che il servizio funzioni e poi allo strumento che si utilizza. Se noi abbiamo verificato che questo strumento ormai non funziona più, dobbiamo cambiarlo rapidamente e non si preoccupino i sindaci perché il Comune di Agropoli che propone questo nuovo modello di funzionamento non ha altri obiettivi, non vuole come qualcuno immagina grazie al fatto che è molto più grande di tutti gli altri comuni del piano in qualche modo fagogitare potere o incrementare il proprio potere. No, noi vogliamo che il servizio funzioni. Qual è la preoccupazione di molti amministratori? Oggi come organizzato il piano di zona ogni comune vale un voto quando si va a decidere. Quindi il comune di 22.000 abitanti come Agropoli vale quando il comune di 800 abitanti in termini di capacità decisionale. E questo diciamo non dovrebbe essere giusto. Non è proprio democratico, non è giusto. Però il comune di Agropoli non vuole modificare questo aspetto. Va bene anche così. Va bene anche così. Quindi il mio voto continua a valere quando il voto del comune è piccolo. Quindi perché sennò qual è la preoccupazione? Diceva quello poi il comune di Agropoli se comanda in base al numero degli abitanti comanda tutto il comune di Agropoli. Quindi noi perdiamo il controllo del piano di zona. Non è questo un problema. Noi accettiamo che il voto rimanga tale. Un comune, un voto. Non è un problema questo. Quindi rassicuro gli amministratori del Cilento che alcune comune non hanno nessuna intenzione di controllare il piano. Però noi riteniamo che dover proporre, come ho detto, un nuovo modello che garantisca i servizi. Quindi rispetto a questo mi auguro che nelle riunioni prossime e comunque endi il 31 marzo, che è il termine che ci siamo dati per decidere su questo argomento, gli altri sindaci si rassicurino, il sindaco del comune Capofile si rassicuri che non c'è nessuna volontà di soverchiare o prendere il comando di niente. Come ho detto non interessa il rivoltore, non interessa la gestione del comune Capofile, però vogliamo che le cose funzionino. Quindi mi auguro che per il Cilento il 31 maturi questa tranquillità e si possa, come dire, scegliere un nuovo modello di gestione per il bene di coloro che oggi sono rimasti più.